Scusi M Avete la M di questa? La M? Abbiamo l'XS, la S, la L, l'XL, l'XXL, la CGL, la DHL No, la M non c'è, mi schiace Ah, ok, ma non c'è neanche in un altro Zara Attualmente la trovi solo a Parigi, che faccio te la metto da parte Fa niente, no, grazie E scusi, invece questa? Questa c'è, aspetta un'ora e mezza in questo esatto punto e te la faccio arrivare, va bene? Ciao, ho visto questa borsa online, dove la posso trovare? No, guarda, tutto quello che abbiamo è esposto, cioè se non lo vedi non c'è E poi voglio dirle, visto online, comprola online, cioè Ciao No, ma infatti glielo ho detto, sei l'ultimo arrivato e la pausa pranzo la fai per ultimo E' una questione proprio di gerarchie, 69,90 euro Posso chiedere fattura? Hai bisogno di fattura? Un responsabile vendita in cassa Il signore deve far fattura Ok Vero Scusa, scusa se ti ho disturbato Il prossimo Il prossimo Il prossimo Il prossimo Il prossimo Il prossimo